Io ho un nonno che ha fondato a Bergamo il MAB, il Movimento Autonomista Bergamasco, che aveva come motto, mi scusino gli amici del Noi Consalvini, Bergamo nazione e tutto il resto meridione. Quindi immaginatevi se avessi mai prestato la mia mano, piuttosto di fare uno statuto centralista o nazionale. Oggi avete visto alzare da Matteo Salvini in persona la bandiera della padagna. Mi sono approssato la borsetta della spesa quest'oggi, con due tipologie di prodotti, adesso ve la faccio vedere. Due mattoni, ma come notate, sono di due tipi diversi. Uno è Piego, che è quello per costruire il muro modello Ungheria per non fare i venire più. Uno è Forato, perché? Perché come giustamente ha detto la Boldrini e tanti altri personaggi, basta muri, no, il muro lo facciamo. Questo è Forato perché bisogna fare i punti. Perché ragazzi miei, noi dobbiamo fare un ponte, perché sennò da che parte passano per tornare a casa. Un ponte ha senso unico, per mandarli di là. Poi se vogliono approfittarne anche la Boldrini e tutti gli altri, per andare in Libia, un cammello ad accoglierli sulla riva, la troveranno sempre. Viva la Lega, viva partida.